23.31 minuti, buonasera, ultima edizione del nostro telegiornale. Cominciamo con la politica, la cronaca. I PM del processo on open arms hanno chiesto sei anni di reclusione per Matteo Salvini, per il sottoprocesso per sequestro di persone, perché nel 2019 impedì lo sbarco di 147 persone che erano state salvate in mare dalla imbarcazione dell'ONG spagnola, appunto, open arms. Il ministro dei trasporti ha reagito con un video nel quale si definisce sì colpevole, ma di avere difeso i confini della nazione. Vediamo. Sono colpevole, rischio la condanna perché la sinistra ha deciso, mi dichiaro colpevole, di aver difeso i confini italiani. Questa, in un video via social, la reazione polemica di Matteo Salvini alla richiesta dei PM di Palermo. Sei anni di carcere, pena richiesta al termine della requisitoria, al processo open arms, in cui il ministro, vicepremier e leader della Lega, che non era presente in aula, è imputato per i reati di sequestro di persone e rifiuto di atti d'ufficio. Nell'aula bunker di Palermo la pubblica accusa ha spiegato davanti alla Corte le ragioni per cui Salvini, che nel 2019, all'epoca dei fatti, ricopriva la carica di ministro dell'interno, dovrebbe essere condannato per essersi opposto, ritardandolo allo sbarco sull'isola di Lampedusa di 147 migranti salvati in mare dall'ONG spagnola. Un diniego del portosicuro avvenuto in totale spregio delle regole, ha detto la PM Marzia Sabella. Scelte che portarono ad un caos istituzionale. I pubblici ministeri sono convinti che la gestione del caso non fu collegiale all'interno del governo e che Salvini accentrò su di sé la decisione sull'interdizione temporanea dello sbarco, non controfirmata dagli altri ministri Trenta e Toninelli. Una requisitoria emozionante, secondo il fondatore di Open Arms, Oscar Camps, si processa la linea di un governo, dai PM un quadro che non corrisponde alla realtà, dice invece Giulia Bongiorno, legale di Salvini. Basta esaminare gli atti per rendersi conto che durante tutto il processo c'è stata la correttezza del suo operato. Molte le reazioni politiche, a cominciare dalla Premier Meloni, che esprime solidarietà al suo vice. È incredibile che un ministro rischi sei anni di carcere per aver svolto il proprio lavoro difendendo i confini della nazione. Commento che fa insorgere le opposizioni. Pensiamo che il potere esecutivo e quello giudiziario siano separati e autonomi. È il principio della separazione dei poteri, dice la segretaria del PD Elish Line. Il rispetto istituzionale imporrebbe di non commentare processi ancora aperti. Il capo di Stato maggiore israeliano Alevi ha detto che il suo esercito è impegnato e continuerà a combattere per eradicare Hamas da Gaza, ma che con il passare del tempo diventa sempre più difficile riportare a casa gli ostaggi. Anche questa sera i migliaia tra Gerusalemme e Tel Aviv sono scesi in piazza per chiedere al governo Netanyahu di trovare un accordo subito per riportare a casa coloro che sono ancora vivi nelle mani degli uomini di Hamas, che li hanno rapiti ormai quasi un anno fa. Tra le tante persone che hanno parlato, la famiglia di un giovane ostaggio che ha diffuso un audio messaggio proprio inviato dal ragazzo che chiede direttamente a Netanyahu di fare di tutto per farlo liberare. Netanyahu, devi fare questo scambio tra prigionieri palestinesi e ostaggi, voglio rivedere la mia famiglia e i miei amici, è molto importante. La voce è di Matanangrest, rapito da Hamas il 7 ottobre, a diffondere l'audio con la sua richiesta di aiuto e con l'invito al Premier a siglare finalmente un'intesa, sua madre Anath, nel corso della consueta manifestazione del sabato a Tel Aviv. Bibi, riportamelo a casa adesso, ha chiuso così l'intervento che ha preceduto la diffusione del messaggio. L'accordo però appare al momento lontanissimo, nonostante il lavoro dei mediatori compreso quello del numero uno dell'intelligence turca che ha incontrato esponenti di Hamas proprio sul tema dello scambio. Un altro nodo è quello legato al corridoio Philadelphia, dal quale il governo israeliano non ha alcuna intenzione di ritirare le proprie truppe presupposto per ogni intesa, invece per Hamas e anche per l'Egitto. È proprio uno dei tunnel che corrono sotto il corridoio stato mostrato dall'esercito dello Stato ebraico a un gruppetto di giornalisti locali accompagnato nei cunicoli nei quali pochi giorni fa sono stati uccisi sei ostaggi. A Gaza, intanto, i raid israeliani continuano a mettere vittime e a colpire edifici trasformati in rifugi per gli sfollati. È accaduto all'istituto di Dara Larkam e alla scuola di Shwada Azeitun a Gaza City ed è nel nord della striscia che si concentrano nuovamente le operazioni. L'esercito dello Stato ebraico ha ordinato una nuova evacuazione intorno a Bet Laia, sempre più caldo. Anche il fronte nord con Israele che ha confermato attacchi contro depositi di armi di Hezbollah nella valle della Beka, nella regione di Balbek e nel sud del Libano. In Ucraina il capo dei servizi di spionaggio Budanov ha detto questa sera che il principale nemico del suo paese dopo Mosca è la Corea del Nord. Pyongyang rifornisce di grandi quantità di munizioni all'esercito russo sostenendone così lo sforzo bellico. Per contrastare questa potenza di fuoco l'Ucraina ha bisogno di un maggior aiuto da parte degli alleati per la produzione interna di armi. Gli Stati Uniti, ha detto Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale, continuano a sostenere Kiev. I ritardi al momento sono dovuti solo alla logistica, non ad una mancanza di volontà. Biden, ha aggiunto Sullivan, continuerà a fare di tutto durante il suo mandato per sostenere Kiev. Inoltre non è ancora esclusa la possibilità che gli Stati Uniti diano il via libera a Gran Bretagna e Francia affinché autorizzino gli ucraini ad usare i loro missili a lunga gittata in territorio russo. Autorizzazione necessaria perché sia gli Storm Shadows che i loro corrispettivi francesi scalp utilizzano tecnologie americane. Torniamo alle questioni italiane, ai dubbi del Ministro della Difesa Crosetto sulla fedeltà di alcune persone dell'Aise, il servizio di sicurezza estero. Dubbi che sono stati riportati dal Ministro al Procuratore di Perugia, Cantone, lo scorso gennaio. La questione sarà ora audita al Copasir. I dubbi del Ministro della Difesa Guido Crosetto riportati dal Fatto Quotidiano nei confronti dell'Aise e i servizi segreti per l'estero diventano un caso politico. L'esponente di governo, cofondatore di Fratelli d'Italia con la Premier Giorgia Meloni, nei verbali pubblicati esprime critiche sull'operato dell'intelligence che non lo avrebbe informato su fatti importanti che lo riguardavano. Dati sensibili finiti sui giornali che il Ministro avrebbe collegato a probabili fughe di notizie, sospetti, elencati e messi a verbale dal titolare della Difesa davanti al Procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, lo scorso gennaio. Del caso si occuperà con un ciclo di audizioni da programmare il Copasir, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, presieduto da Lorenzo Guerini. Al verbale pubblicato dal quotidiano, Crosetto reagisce con una nota durissima in cui smentisce scontri e si dichiara lieto di riferire al Copasir. Non bastano pochissime mele marce, afferma il Ministro, ad intaccare istituzioni con cui collabora ogni giorno per difendere la nostra Repubblica. Crosetto esclude contrasti con il sottosegretario Mantovano che a sua volta interviene con una nota in cui rinnova la fiducia e la stima nei confronti dell'Aise e del suo direttore e anche la piena collaborazione fra l'intelligence e il Ministero della Difesa. Immediate le reazioni delle opposizioni, non si è mai visto uno scontro così plateale, afferma Enrico Borghi di Italia Viva, tra l'autorità delegata e un Ministro della Difesa sul tema delicatissimo dei servizi, mentre di ombra grave parla apertamente il Dem Walter Verini. Nuove violenze negli ospedali. L'ultimo episodio è avvenuto a Pescara dove una quarantina di persone di etnia Rom hanno assaltato il reparto oncologico dopo la morte di un loro parente gravemente malato. Solo l'intervento delle forze dell'ordine ha riportato la calma. Nelle ultime 24 ore si sono registrate nuove aggressioni ai danni di due dottoresse, una nell'ospedale di Reggio Calabria, l'altra hanno. C'era una situazione sempre più grave che ha spinto il Governo a proporre nuove misure come l'attesto di ferito. A Vibo Valencia, oggi il prefetto ha stabilito la vigilanza dell'esercito nell'ospedale della città. Un provvedimento che rientra all'operazione Strade Sicure. Una decisione adottata dopo che erano già stati potenziati nei mesi scorsi i presidi della polizia all'interno della struttura. Intanto oggi a Foggia il giudice ha convalidato con rito per direttissimo l'arresto di due uomini protagonisti degli ultimi episodi di due dei tre ultimi episodi della scorsa settimana. Ancora una morte sul lavoro è successo questa mattina a Darfo Boario siamo nel Bresciano un operaio di una carpenteria è precipitato da un'impalcatura mentre lavorava al sottotetto dell'azienda aveva 49 anni la terza vittima in una settimana sempre nel Bresciano. Il lavoro è una risorsa chiave sia garantita alla giustizia sociale ha dichiarato oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che due giorni fa aveva ribadito come gli incidenti sul lavoro siano un'offesa intollerabile per la coscienza collettiva. Intanto l'Inail ha fatto sapere che fino a luglio di quest'anno ci sono stati 577 morti sul lavoro 18 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Adesso apriamo la pagina dello sport l'Italia del tennis grazie anche alla vittoria del Brasile sul Belgio arriva alle finals di Coppa Davis e poi è tornato il campionato di calcio il Milan ha battuto il Venezia con reti di Hernandez Fofanà Pulisic e Abram entra un bis sul rigore e invece 0-0 tra Empoli e Juventus. Ad Empoli un altro 0-0 il secondo consecutivo per la Juventus migliorata in difesa ma ancora poco efficace in avanti nonostante l'impiego di molti dei nuovi acquisti. Vlahovic e Gatti hanno trovato sulla loro strada il portiere colombiano Vasquez bravo ad opporsi ai loro tentativi. La formazione di casa ha sfiorato con Giasi nel recupero il gol dell'1-0 al termine di un'azione corale assist di Pellegri per Giasi neutralizzato da Gatti. Senza dubbio un segnale non incoraggiante in previsione del debutto in Champions martedì a Torino contro gli olandesi della Eindhoven a ponteggio pieno in campionato. Sarà necessario soprattutto velocizzare la manovra apparsa anche oggi troppo lenta e macchinosa. In casa del Como il Bologna riacciuffa il pari nell'ultimo quarto d'ora. Rosso-Blu in svantaggio per l'autogol di Casale e poi per il destro di Cutrone in apertura di ripresa. La lunga interruzione per il VAR fa il gioco degli ospiti che hanno tempo per il gol di Castro e poi in pieno recupero il 2-2 segnato da Eling Junior su assist dell'argentino. Un secondo tempo di personalità salva quindi il bilancio della squadra Rosso-Blu che il tecnico Vincenzo Italiano sta cercando di plasmare come fece negli anni scorsi Tiago Motta. Il Como vede invece volar via dopo un ottimo inizio di partita la chance di festeggiare il primo successo nella stagione del ritorno in Serie A per i lariani appena due punti dopo quattro incontri. Domani altre cinque partite si comincia l'ora di pranzo con Genoa-Roma dove De Rossi schiererà soprattutto in difesa molti dei nuovi arrivi. Alle 18 Cagliari-Napoli alle 20.45 Monza-Inter con i nerazzurri già proiettati verso il difficile debutto in Champions di mercoledì in casa del Manchester City. Formula 1 per il Gran Premio dell'Azerbaijan Paul per la Ferrari di Leclerc. Questione di feeling è decisamente forte quello tra Charles Leclerc e la pista di Baku che ormai può essere considerata la sua zona di comfort. Il Monegasco si lega alla quarta pole position sul circuito dell'Azerbaijan e come l'Irascalia sottolinea che infatti è una delle piste preferite. C'è un però la Ferrari qui non ha mai vinto. Gusti diversi invece per l'altro pilota Sainz che non nasconde la scarsa simpatia verso questo circuito cittadino e allora esprime soddisfazione per il terzo posto. Una qualifica intensa e non senza sorprese con addirittura l'eliminazione della McLaren di Lando Norris che partirà a 17esimo. È stato bravo Leclerc Crono 1.41 365 a non perdere fiducia dopo l'incidente nelle prime prove libere che non lo ha demoralizzato e alla fine definisce la sua pole fantastica. Una qualifica solida per tutto il team con le Ferrari capaci di arrivare alla fase recisiva senza grattacapi e con un ottimo passo gara rimanendo lontane dai muretti per non rischiare. Tra le due rosse si piazza dal McLaren di Oscar Piastri che affianca Leclerc in prima fila. Max Verstappen con la Red Bull chiude sesto alle spalle del compagno di squadra Sergio Perez che per la prima volta in stagione finisce in avanti altre volte ridato. Con la pole numero 26 della sua carriera Leclerc si avvia a gran premio con il consiglio del team principal Alvaser non dovrà strafare ed evitare l'insilie della pista che ha un evidente stato di degrado. Le 11.23.44 Noi ci fermiamo qui come sempre domattina alle 7 torna l'informazione grazie arrivederci buonanotte